Sì, un grande lavoro fatto in questi due anni e di recente siamo riusciti a potenziare il sistema di videosorveglianza proprio in centro storico, qui in piazza ma anche nel vicino cortile dell'ex collegio dei gesuiti. Andiamo a potenziare un sistema che comunque funziona in tutta la città e che peraltro è collegato con tutte le altre forze dell'ordine. Questo ci consente quindi di avere una collaborazione istantanea con chi poi deve intervenire anche in alcune aree della città dove si erano registrati dei fenomeni soprattutto di schiamazzi notturni che disturbavano la quiete dei residenti. Quindi ringrazio il comandante della Polizia Municipale, Ignazio Bacile e tutta la Polizia Municipale che è intervenuta subito su questo progetto e ovviamente anche in tema di protezione civile dove grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio siamo riusciti a creare un sistema di prevenzione che punta molto alla prevenzione ma anche all'informazione. Da questo punto di vista mi riferisco all'app che abbiamo al sistema che si chiama Alert System che è un sistema che consente di far partire immediatamente una chiamata a tutti i cittadini che si sono registrati per informarli di eventuali calamità.